...le più importanti trasmissioni delle visite mondiali. Andrea e Virginia sono un pochino più recenti, perché l'anno scorso aveva fatto il giro del mondo il loro duetto sulle note di Alleluia, nello spettacolare concerto dell'Incruzio... Il giorno più speciale, il giorno di Natale... Ragazzi, Radio Italia è andata la grande, adesso ci spostiamo al Palazzo del Novecento, vi aspettiamo da... a tra poco. Innanzitutto non è lavorare, è pure divertimento. Perchè quando si fa musica è sempre un piacere. Comunque il tutto è nato nel 2018, perchè precedentemente, a quell'anno lì, cantavo... A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.